lodi mattutine nella divina volontà mercoledì terza settimana nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen nel fiat signore apri le mie labbra e la tua volontà in me preghi e lodi nel fiat vieni divina volontà vieni a legnare in noi venite lodiamo il dio trino e l'unico benediciamo lui fonte di ogni bene fondiamoci in lui per adorarlo amarlo e glorificarlo ed il nostro spirito esulti nel suo figlia vieni divina volontà vieni a regnare in noi poiché santo è il suo volere ed il suo amore scorre ovunque nel suo cuore è racchiusa tutta la creazione e in esso sono in atto tutte le generazioni dal suo fiat tutto riceve la vita e con il suo amore tutto lega insieme nel fiat vieni divina volontà vieni a regnare in noi venite Gesù, Maria e Luisa, Angeli e Santi venite creature tutte e prostrati adoriamo nel divin volere la maestà suprema dal suo cuore siamo usciti sulle ali del suo fiat dobbiamo ritornare nel fiat vieni divina volontà vieni a regnare in noi ascoltate oggi la soave voce dello spirito santo ed assieme a Maria Santissima dite il vostro sì non indurite il vostro cuore perché Gesù brucia d'amore nel fiat vieni divina volontà vieni a regnare in noi per ben 6.000 anni languisce d'amore la nostra volontà che vuol regnare in tutti i cuori aprite le porte ad essa perché regni come in cielo così in terra nel fiat vieni divina volontà vieni a regnare in noi gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli nel tuo eterno volere fiat 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 nel fiat maestà suprema cieli e terra sono pieni della tua gloria del tuo dolce impero e dominio del tuo eterno ed immenso amore ti adoriamo ti benediciamo ti ringraziamo ti amiamo per tutti e nel cuore di tutti nella tua santissima volontà ai piedi del tuo trono supremo leghiamo la nostra volontà umana e in essa quella di tutti gli uomini per vivere sempre nella tua volontà divina amm amm fiat 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 nel fiat la mia volontà rende l'anima depositaria di tutti i doni di dio tutta questa macchina dell'universo il cielo il sole i mari e tutto il resto fu da noi creata per fare un dono a chi avrebbe fatto la nostra volontà tutto ad essi fu donato come a figli nostri legittimi questo lo facevamo per decoro delle nostre opere non depositandole né facendone dono a gente straniera né a figli illegittimi che non avrebbero compreso i grandi beni che sono in esse né apprezzato la grandezza e santità delle nostre opere anzi le avrebbero sciupate e disprezzate e siccome in ogni cosa creata c'è un amore distinto ed un bene speciale verso colui al quale è diretto il dono la nostra volontà abitando nei nostri figli e formando in loro la vita propria avrebbe fatto loro comprendere tutti questi amori distinti uno dall'altro che sono in tutto il creato e tutte le specialità dei beni quindi ci avrebbero dato il ricambio per ciascun amore distinto e gloria ed onore per tutti i beni la nostra volontà che con un solo fiat aveva creato ogni cosa e ne conosceva tutti i segreti abitando nei nostri figli legittimi con un altro fiat avrebbe svelato i nostri segreti che sono in tutte le cose create e ci avrebbe fatto dare amore per amore e le armonie e le comunicazioni si sarebbero avvicendate tra i nostri figli e noi ne fiat gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli nel tuo eterno volere nel fiat la mia volontà rende l'anima depositaria di tutti i doni di dio nel fiat l'unione con me è vita la separazione è morte io avevo creato l'uomo come un fiore che doveva crescere colorirsi e profumarsi nella mia stessa divinità col sottrarsi alla mia volontà successe a lui come ad un fiore che si strappa da una pianta finché sta nella pianta il fiore è bello vivace nel colore o lezzante nel suo profumo l'uomo invece strappato dalla pianta appassisce e scolorisce si trasforma in brutto e giunge a dare un cattivo odore quale sorte fu per l'uomo e qual dolore per me che con tanto amore volevo crescere questo fiore nella mia divinità per deliziarmi e ricrearmi con lui ora questo fiore strappato con la mia onnipotenza voglio di nuovo farlo sbocciare col trapiantarlo di nuovo nel seno della mia divinità ma voglio un'anima che voglia vivere nel seno del mio volere lei sarà il seme che a me si presterà e la mia volontà farà tutto il resto così ritorneranno le mie delizie della creazione mi ricreerò con questo mistico fiore e mi rifarò della creazione gloria al padre, al figlio, allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli nel tuo eterno volere l'unione con me è vita la separazione è morte fia, 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 fia Fiat, 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 fiat. Fiat, 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 f nella volontà, come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature per dare al Padre Celeste la gloria, l'amore e la riparazione per ciascuna creatura in modo divino e suggellare con la luce e con la grazia della tua volontà ciascun loro pensiero, così anch'io voglio percorrere ciascun pensiero, dal primo all'ultimo, che avrà vita nelle menti umane per ripetere ciò che è stato fatto da te, nella tua volontà troverò tutti i tuoi atti come quelli della madre tua e di tutte le creature e così ti darò vero amore, gloria e riparazione, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, nel tuo eterno volere, nel fiat, nessuno è entrato nella mia divina volontà, fuorché la madre mia e i figli del divino volere, fiat, nel fiat, sii più attenta e segui il volere del tuo Gesù perché l'attenzione ti farà conoscere dove stai e che cosa fai, la conoscenza ti farà più apprezzare e stimare la divina reggia della mia volontà, così ad esempio un tale che sapesse di trovarsi nella reggia di un re guarderebbe con attenzione le cose e le apprezzerebbe, andrebbe in punta di piedi, parlerebbe sottovoce, sarebbe tutt'occhi per vedere se il re uscisse da qualche stanza e si metterebbe come in aspettativa di ricevere grandi doni dal re, vedi l'attenzione è la via della conoscenza, la conoscenza cambia le persone le cose e dispone a ricevere grandi doni, fiat, 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 fiat mi, fiat, 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 fiat nel fiat io lavoro le anime con le mie proprie mani, mi servo delle creature sempre e solo in ordine secondario io lavoro le anime con le mie proprie mani, mi servo delle creature sempre e solo in ordine secondario il primato lo posseggo io e vado formando le anime secondo il mio disegno mi servo delle creature sempre e solo in ordine secondario gloria al padre, al figlio e allo spirito santo io lavoro le anime con le mie proprie mani, mi servo delle creature sempre e solo in ordine secondario fiat, fiat, fiat nel fiat ciò che vuole Dio lo voglio anch'io se non lo vuole Dio neppure io nel fiat benedetto il Signore Dio nel suo volere per chi ha visitato la sua chiesa per glorificarla ed ha aperto le porte del suo regno per noi nella persona di Luisa, la sua figlia come aveva promesso per bocca di tutti i suoi santi e profeti e del suo figlio salvarci dal nostro volere e dal potere del demonio, del mondo e della carne così egli ha concesso misericordia alle umane generazioni e si è ricordato della promessa del suo regno la promessa fatta da Gesù il nostro Signore nella solennità della sua stessa preghiera di glorificarlo senza timore del volere umano vivendo nella sua volontà sulla terra come in cielo e voi, bambini, sarete chiamati figli dell'Altissimo e vivendo nella divina volontà gli preparerete nei cuori le strade per dare alla sua chiesa la conoscenza del suo volere nella liberazione dal volere umano grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà il trionfo del fiat supremo che è il sole che sorge per vivificare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte del volere umano e dirigere i nostri passi sulle eterne vie del suo volere gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nel secolo dei secoli nel suo eterno volere ciò che vuole Dio lo voglio anch'io se non lo vuole Dio neppure io fiat 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 volumtastua fiat volumtastua fiat volumtastua Fiat, 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 fiat. 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 Fiat, 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 fiat. Vieni divina volontà, vieni a regnare in noi. Fiat, 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 fiat. Fiat, 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 fiat. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Come in cielo, come in cielo, come in cielo, dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, vogliamo essere riconoscenti del grandono di tutto l'universo che ci fu consegnato da te, perciò ti preghiamo di farci vivere nella tua volontà, per ricambiarti e ringraziarti col dono del tuo volere, a nome di tutte le creature, per Cristo nostro Signore. Amen, 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 Fiat, Fiat, Fiat. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.